ok mi salve a tutti ragazzi siamo sempre il vostro vincenzo e tutti ragazzi siamo su dashiro ragazzi questo oggi vi vorrei parlare di una cosa molto importante ovvero questo bracciale ragazzi è molto potente infatti lo equipaggerò proprio poi abbiamo questo quest'altro che è anche molto forte poi abbiamo queste due armature che sono scarsissime queste due armature infatti ve lo sconsiglio vivamente anche queste sono molto scarse abbiamo queste qui che le ho potenziate poi abbiamo questa che è molto forte e va bene ragazzi c'è un prossimo segno di dashiro grazie grazie grazie